buongiorno a tutti youtubers video con skater vi volevo spiegare come si costruiva una lama celata quel tipo che si scrive solo che ho avuto un po' di problemi con la lama quindi ho deciso di costruire la pistola questa è molto semplice si prende un tubetto in pvc e ho preso in questo diametro vedete sotto ci ho messo una molla dentro ho fatto un foro L questo tipo qua vedete qua dove termina la vite poi ci ho messo appunto la vite un pezzo di legno dentro in modo da comprimere la molla e praticamente semplice ci può sperare qualunque cosa praticamente una mattina con questa va anche abbastanza veloce vi dirò è anche semplice di caricare guardate qua di qua non si vede neanche quando parte così si ricarica vedete questa vite si spinge in giù e si gira verso il punto in cui voi farete la L dopo si mira e si spara è molto semplice si carica si mira e si spara e è una roba molto semplice da fare se voi avete qualunque cosa tipo uno smeriglio qualcosa che taglia la plastica tipo di pvc o qualunque cosa riuscire a trovare è molto semplice e io perciò ho fatto anche il parabraccio è un pezzo di alluminio ricoperto di scotch di alluminio quello tipo carta da ricartare le cose di alluminio e è una cosa molto semplice quindi potete farla come volete quando volete troverete anche dei video molto più elaborati più difficili con quali si possono sparare dei proiettili veri ma nel caso non abbiamo ancora il passaport il documento di letta di per volta è un gran casino comunque ma raga dovete avere più di 18 anni insomma per fare quello vero con i proiettili quindi per me è stato più comodo che fare questo qua che si farà con la molla e se volete fare quelli con i proiettili veri si è liberissimi di farlo cioè non è un problema però nel caso voleste fare questo questo video potrà aiutare molto quindi è semplice crearlo come ho già spiegato provateci è semplice è vero provateci qui da GoSkater vi saluto buongiorno a tutti buonasera dove siete nel mondo buongiorno buonasera buonanotte uguali ciao 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 ciao